Noi abbiamo in questi due anni e mezzo di attività fatto una buona manutenzione dei siti del Comune di Fano, va messo ordine però e va fatto un salto di qualità, anche facendo tesoro della prima tappa del turismo, con EIAR che ci ha consigliato di strutturarci, di fare community e quindi abbiamo proprio in queste ore firmato una convenzione con social media team di Regione Marche che è l'azienda leader in questo settore per le Marche, non a caso la nostra regione è la regione più social di Italia con grandi risultati, per cui la consulenza servirà a un lato a informare un po' tutti gli operatori di Fano su come si fa web marketing, perché è utile e indolore, nel senso che piuttosto che fare una cosa se ne fa un'altra con risultati assolutamente più convincenti, due vedere gli strumenti che il Comune di Fano può dotarsi per posizionarsi nelle primi posti di Google, Instagram, Facebook o via dicendo, altrimenti non si esiste sostanzialmente, tre un'attività di formazione dello staff del Comune di Fano che dovrà essere indipendente dopo questo periodo di formazione, cioè un comitato di redazione che quotidianamente e con qualità sappia aggiornare questi siti, perché i siti vanno aggiornati quotidianamente. Il tutto nell'obiettivo ovviamente di far crescere il mercato del turismo, la visibilità degli operatori nostri, sapendo anche che ci sono 20 milioni di turisti che premieranno l'Italia in futuro e bisogna che anche noi ci stiamo nell'intercettazione di questi flussi.